Togliamo una melanzana nel senso della lunghezza. Grazie per la visione! Infariniamo leggermente ogni fetta di melanzana che andremo poi a friggere in abbondante olio di semi. Quando l'olio sarà ben caldo procederemo ad immergere le melanzane. Grazie per la visione! Prepariamo gli involtini mettendo un po' di sale sulle melanzane fritte, aggiungendo prosciutto cotto e mozzarella passita a fettine. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Aggiungiamo l'abbondante passata di pomodoro. Con un goccio d'acqua, qualche foglia di basilico fresco. Regoliamo di sale per il sugo. Facciamo cuocere per circa 10 minuti su fiamma bassa. Inforniamo ora a 200 gradi per altri 5-10 minuti. A seconda di quanto volete gratinare le vostre melanzane. Ed ecco i nostri involtini di melanzane al sugo appena sfornati. Per ottenere questa gratinatura abbiamo anche attivato la funzione grill per qualche minuto. Come sempre se la ricetta vi è piaciuta vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video o a chiederci ulteriori informazioni se ritenete di averne bisogno. Vi aspettiamo alle prossime ricette. Ciao a tutti da Margie! Ciao a tutti! Grazie! Grazie!